Detective Mulligan, con il dovuto rispetto, non voglio avere a che fare con Cletus Kasady. È un vero peccato, perché vuole vedere solo te. Anche se secondo me hai avuto un'occasione con Kasady e l'hai sprecata. Esatto. Allora? Lui che vuole? Forse vuole spifferare dove sono seppelliti i corpi scomparsi. Quindi dovrai fare la cosa giusta per una volta. No! Toglimi subito quella manina di dosso! Dovremmo stare in giro a proteggere la città illegalmente! Che cosa hai detto? Lasciami! Un uomo non deve mai consentire a strisciare quando ha l'impulso di volare. Tu sei un farassita! Torna in te e stai zitto! Quante volte ti ho detto che voglio che tu stia nascosto quando sto lavorando! Sono serio! È importante! Devi portarmi rispetto! Rispetto! Sì! Rispetto! Sì! Ok! Ok! Tassa di titolo allo scopo, giusto! Giusto! Sbagliato! Tu rovini sempre tutto! Oh, ok! Ho capito! Stai parlando di Moffa Dien! Lei mi manca! Lo farò! Non mi piaci! Fammelo mangiare! Bisogna! Meritarsele! Le cose belle! Ma... Sì! Le cose belle! Le cose belle! Grazie.